Siamo qua giù per spendere due parole su quello che è un concetto che molte volte stressiamo nelle nostre cose, quello dell'interdisciplinarità. Noi abbiamo cercato di superare questo concetto perché non era sufficiente, quindi abbiamo cercato di essere ancora più transdisciplinari, che vuol dire che io ho cercato di calarmi nella realtà dell'esame del cammino, nella realtà fisiatrica e il fisiatra è venuto più in sala operatoria e si lava con noi. Io penso che questo approccio integrato, questa combinazione di capacità e competenze sia assolutamente docente nella gestione del prossimo lavoro. Sì, soprattutto per noi riabilitatori vedere che cosa fa il chirurgo in sala operatoria e quanto allunga e soprattutto vedere la qualità dei tessuti e dei muscoli ci permette poi in un ambito riabilitativo di muoverci sicuramente con maggior sicurezza e soprattutto parlare con chi opera e capire dalle varie tecniche anche quali che possono essere gli obiettivi e soprattutto come per gli obiettivi fissati a muoverci è sicuramente una chiave importante per raggiungere quali che sono gli obiettivi prefissati con il paziente.